In queste ultime ore, un vortice di scottanti indiscrezioni ha catturato l'attenzione di tutti riguardo a una coppia che è stata al centro dell'attenzione per anni, Luca Onestini e Ivana Mrazova. Questi due si erano conosciuti e innamorati nel contesto della casa del grande fratello Vip nel lontano 2017. Ma col passare del tempo sembrava che le loro strade si fossero separate inesorabilmente. Tuttavia, per i loro fan, la speranza è sempre l'ultima a morire e ancora oggi sognano di rivederli insieme. Ebbene, sembra che i due abbiano deciso di soddisfare almeno in parte questo desiderio. Recentemente, Luca e Ivana sono tornati a condividere lo stesso spazio, ma solo dal punto di vista professionale. L'occasione è stata l'evento Dimmi di Sì, una rinomata sfilata di abiti da sposi tenutasi lo scorso 10 settembre a Noto in Sicilia. In quell'incantevole cornice, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno fatto un'apparizione che ha lasciato il pubblico estasiato. Indossando abiti da sposi, hanno camminato lungo la passerella, apparendo più belli e radianti che mai. Durante questo evento, è sembrato esserci ancora un certo feeling tra i due, e il video della loro apparizione è diventato virale in pochissime ore, condiviso da migliaia di utenti. Successivamente, Luca e Ivana hanno anche postato delle Instagram stories in cui scherzavano insieme. Tuttavia, nonostante questa apparente simpatia, rimane incerto se ciò possa portare a una nuova storia d'amore tra loro. Luca Onestini ha commentato l'esperienza dicendo «Presentare una serata in una cornice così magica e con la scalinata gremita è stato veramente meraviglioso». Ivana Mrazova ha condiviso il suo entusiasmo, definendo Noto un posto meraviglioso. Quindi, mentre la speranza dei fan brilla ancora, rimaniamo in attesa di scoprire se questa reunion abbia il potenziale per riaccendere una fiamma d'amore, o se rimarrà un dolce ricordo nel loro percorso professionale e personale. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto!